Il progetto interessano due parti fondamentali, una che non si vede, come tutti gli spazi aperti, che è quella dei sottoservizi, ha già detto la sua storia, viene rifatta la rete delle nere, ma non ha detto che l'impianto a Roma viene rifatta anche la prodotto della rete delle bianche. Viene rifatto anche l'impianto a rete, il co, l'illuminazione, c'è tutto un progetto di uno tecnico, per così dire, in un parere avanzato, che è utile per la tecnologia render compatibile con l'ambiente, quindi basso consumo, e quindi si cercherà di dare un aspetto, in modo a dire green, a questo progetto. Ciò invece che si vede un pochino di più, più diretamente, è quello che si può disegnare dei render, che è la pavimentazione, il disegno e tutte le opere di avvento complementari. La pavimentazione, ha già detto Cristiano, che va fatta in un materiale che viene denominato tappeto da ename, una specie di resina che costituisce una superficie verso che preanare, quindi non ci saranno più i piadini dei marciapiedi, il cordo di deraiore, rimarranno solo dependenze verso i canali di rapporta, è idonea anche alla percorribilità breve di veicoli, insomma, di mezzi di soccorso, di meglio rendire diritto ad accendere tutti i spazi di un po' di donare, ma uno dei punti, a mio giudizio, più interessanti, perché sono più architetto, che ingegnere, quindi mi interessa più le cose che si vedono e che trasformano gli spazi, piuttosto che quelle che non si vedono, come dice l'ingegnere, servono di più, dipende un po' dai miei punti di vista, è che questo progetto cerca di far sì che sia confermata una vocazione di questi spazi ad essere sarossi della vita. cambiamo le pantine, cambiamo le luci, cambiamo anche il sistema degli areni e mettiamo queste piccole gruppi di sedute riunite dei campioni, uno qui, uno più avanti, uno oltre ancora, per dare un pochino forte questo senso di salotto, ci saranno questi salottini che insieme alle panchine potrebbero essere un po' dei luoghi dove fermarsi, in uno spazio che oggi è uno spazio solo di trambito, non solo pericolare, ma anche per donare, dove si può sedere, si può fare quattro chiacchiere e stare lì. Le aiole, ovviamente, sono tutte confermate, se non nel lavoro, diciamo, presenza fondamentale per questa di questi allunghi mai storici, vengono denominati cordoli per cui vengono messi queste salvapianta, mette alborari, calpestabili e non si vede tanto in questo render, saranno costruite quattro aiole, con delle essenze tipicamente mediterranei, da una parte mediterranea, due di colori, una dei farmaca, di fronte alla farmacia e una di fronte all'asilo, più didattica, con, se non sbaglio, le essenze profumate. Grazie!